Se hai la testa un po' confusa, il tuo cuor non sa che dire Con l'arte magica ti saprò di quale vi è seguì L'oroscopo scomposto di Beppe Channel Vediamo un po', papì Buongiorno da Beppe Channel Ecco a voi la classifica dei tre segni sfortunati Anche questo lunedì 15 aprile In terza posizione, sagittario Se dalla vita non riuscite ad avere alcuna soddisfazione Non esistete, tanto non l'avrete mai In seconda posizione, capricorno Paura della civile, bollite prima i vostri amici Prima di votarveli a letto In prima posizione acquario Le donne vi evitano per la vostra mancanza di cultura? Sì Hanno ragione, perché l'ultima cosa che avete letto è stato il contatore del gas E da Beppe Channel è tutto A domani con il pipistrello di Antonio Manganiello Con la classifica dei tre segni più sfortunati Ciao!